Siamo pertanto in onda da questo momento. Pregherò ai nostri ospiti di contenere il loro intervento in dieci minuti per dar modo ai deputati di porre delle domande, cui seguirà la replica degli auditi che potranno inviare comunque alla Secretaria della Commissione, qualora non l'aveste già fatto, un documento scritto. La documentazione sarà poi pubblicata sul sito internet della Camera dei Deputati e sarà pertanto disponibile ai deputati attraverso l'applicazione. Do quindi la parola al Presidente Marco Marsilio, Presidente della Regione Abruzzo, Presidente a dieci minuti a sua disposizione. Grazie Presidente Pagano, grazie agli onorevoli deputati che ci hanno voluto ascoltare. Credo insomma si debba da parte nostra dare un giudizio complessivo sul testo di legge nella versione fuoriuscita e aggiornata, quindi dalla prima lettura del Senato. Io andando sull'articolato voglio sottolineare che credo che sia stato un passaggio del Senato molto utile per arricchire, migliorare e in qualche situazione anche correggere il testo dove poteva avere delle mancanze o poca chiarezza in alcune procedure o alcuni livelli di garanzia. Già dall'articolo 1 l'inserimento esplicito si parte con il pieno rispetto dell'unità nazionale che è un valore al quale ovviamente sono molto legato per cultura politica e personale. Al comma 2 è fondamentale questa subordinazione dell'attribuzione di ulteriori funzioni di autonomia alla determinazione dei LEP, sottolino che è importante che questo meccanismo venga reso effettivo ed efficace perché produrrebbe anche un percorso virtuoso di reciproca collaborazione. Credo che tutte le regioni sarebbero interessate a fare in modo che insieme allo Stato questa determinazione delle LEP e il loro finanziamento e la loro messa in opera avvenga nella maniera migliore possibile, più veloce e più efficace possibile perché questo poi libera la possibilità per le regioni più sviluppate o che hanno comunque richieste specifiche di autonomia di poterla attivare pienamente. Quindi anche sottolineare che questi diritti devono essere garantiti equamente. Credo che sia stato un altro passaggio che nel Senato ha arricchito questo processo. Peraltro all'articolo 4 c'è anche un ruolo per le regioni e per il Parlamento che non è di mera ratifica, quindi non è un ruolo notarile. Questo lo voglio sottolineare perché a differenza del percorso con cui era iniziata la richiesta delle tre regioni che stanno in fase avanzata di negoziazione e che con il Governo Gentiloni avevano già firmato, l'aveva firmato il sottosegretario Bressa, una preintesa senza che esistesse una norma quadro, senza che esistessero strumenti di applicazione, senza che esistessero meccanismi di garanzia che non fosse il buonsenso o affidarsi alla gestione successiva dello strumento. Io credo che invece l'inserimento con questa legge quadro di precisi percorsi e garanzie compreso il ruolo del Parlamento che non è soltanto quello di ratificare perché ci si era interrogati anche i costituzionalisti sul fatto se quella intesa, preintesa, poi per essere approvata dal Parlamento dovesse essere trattata alla stregua di un trattato internazionale sul quale il Parlamento può solo ratificare sì o no il testo uscito da un negoziato tra la Regione e il Governo oppure se invece le commissioni parlamentari e il Parlamento nel suo complesso avesse voce in capitolo per dire al Governo se il negoziato era completo, soddisfacente, insoddisfacente o che cosa andasse modificato. Io penso appunto che questo sia stato un altro passo in avanti importante così come la conservazione e l'esplicitazione da parte del Presidente del Consiglio e del Governo nel suo complesso della clausola di supremazia o delle capacità di intervento laddove ritenesse che per questioni strategiche nazionali o per squilibri creatisi nella gestione dell'autonomia e delle risorse si rende opportuno al fine di tutelare la unità dello Stato e la parità dei diritti di intervenire la delega quindi all'individuazione dell'EP finalmente è dal 2008-2009 che questa norma è entrata per merito peraltro del Ministro Calderoli all'epoca la legge sul federalismo fiscale e sul superamento della spesa storica attraverso la determinazione dei fabbisogni standard per troppo tempo questo percorso è rimasto fermo ed era quindi ora, al di là, autonomia o non autonomia che venisse completamente attuato e noi attendiamo che venga fatto e che non solo alcune materie che oggi hanno individuato i livelli delle prestazioni ma tutte le materie che sono misurabili, quantificabili che fanno il corredo dei diritti che poi i cittadini devono esercitare e di cui devono poter godere possa essere finalmente colmato e tra i diritti che devono essere garantiti e i divari che vanno colmati io sottolino fortemente il tema delle infrastrutture viene citato anche esplicitamente alle lettere L, M e seguenti porti, aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione e così via nella determinazione dell'EP perché credo che la vera differenza che c'è tra alcune parti del Paese non sono solo le isole, sull'insularità ho visto che in diversi articoli viene inserito l'aspetto dell'insularità e in altri articoli della norma di questa legge vengono richiamati il tema dei collegamenti da garantire della continuità territoriale ma la continuità territoriale non riguarda solo le isole ci sono aree del Paese come quella che rappresento la parte centro-meridionale adriatica in particolare l'area più svantaggiata in assoluto a livello di infrastrutture una regione come l'Abruzzo che per attraversare 200 km tra Pescara e Roma tra l'Adriatico e il Tirreno impiega con il treno 3 ore e mezza nel treno di massima velocità altrimenti la media dei treni che partono tutti i giorni è tra le 4 e le 5 ore abbondanti rende naturalmente svantaggioso e poco competitivo un territorio per gli insediamenti di ogni tipo a cominciare da quelli economici ed industriali nella attuazione di questa norma e nei futuri passaggi nella determinazione dei LEP e nel fondo per la perequazione che pure esiste e che deve essere alimentato questo io credo che sia il tema vero metteteci nelle stesse condizioni degli altri luoghi del Paese di essere collegati di avere infrastrutture materiali e immateriali come le reti dati piuttosto che porti, aeroporti ferrovie, alta velocità e il tema del gap e della competitività di regioni che oggi pagano il dazio a questa mancanza di connessione e di collegamenti viene affrontato nella maniera più giusta, corretta e diretta altre riflessioni è importante è citato in almeno due punti in maniera chiara ed esplicita ma ci tengo a sottolinearlo che dalla attuazione della la cosiddetta clausola di invarianza dall'attuazione dell'autonomia per alcune o tutte le regioni che la vorranno chiedere non deve derivare un euro in meno per le regioni che non ne facciano richiesta questo è un aspetto fondamentale che se possibile potrebbe e dovrebbe essere chiarito ancora meglio nel senso che dobbiamo rendere più chiaro che il trasferimento di funzioni e di risorse avviene in una prospettiva verticale non orizzontale orizzontale intendo tra regioni pari livello è un rapporto tra lo Stato e la singola regione oggi lo Stato già esercita delle funzioni nel Veneto nell'Abruzzo in qualunque regione quando la regione chiede che quelle funzioni che oggi esercita lo Stato le può esercitare direttamente noi dobbiamo calcolare il costo e le risorse che lo Stato impiega per quella regione e trasferirle a quella regione questo meccanismo se reso cogente e chiaro elimina ogni ombra di dubbio e ogni ombra di sospetto e di paura sul fatto che una regione più debole possa essere penalizzata dal fatto che una regione economicamente più forte e sviluppata e amministrativamente più robusta perché anche questo è un elemento importante le regioni più piccole hanno una struttura amministrativa più gracile delle regioni che hanno il doppio il triplo il quintuplo di dirigenti direttori uffici aziende e quindi hanno anche una capacità amministrativa diversa nel mettersi sulle spalle ulteriori funzioni rispetto a quelle che già esercitano magari in alcuni casi le regioni fanno fatica a esercitare già quelle che hanno quindi poi vedremo quindi io credo che questa clausola di invarianza è il meccanismo che la distribuzione e l'attribuzione di risorse avvenga in maniera verticale senza intaccare l'equilibrio generale senza provocare nessuna danno alle regioni che non ne facciano richiesta deve essere da questo punto di vista va bene ma se è possibile questo lo affido poi ai legislatori insomma come eventualmente intervenire su questo punto chiarire in maniera più esplicita e più colgente questo aspetto che crea la garanzia reciproca di non dover alimentare paure rispetto a fuga in avanti sperequazioni territoriali e così via aggiungo un ultimo elemento in questi giorni sta avendo grande successo e ne sono felice un film che Riccardo Milani ha girato nei paesi di Pescassero Liopi nel parco nazionale d'Abruzzo che affronta il tema del dimensionamento scolastico delle pruriglasse dello spopolamento di queste aree ogni anno noi ci troviamo a dover fare questo passaggio che in virtù della diciamo dinamica demografica produce sempre quasi tutti gli anni una contrazione nel numero degli istituti e dell'autonomia di questi istituti con accorpamenti delle direzioni quando non addirittura chiusura di scuole soprattutto nelle località montane questo è uno degli esempi in cui se le regioni avessero maggiore grado di autonomia è la possibilità di gestire e magari di accollarsi gli oneri di una scuola aperta in più di una direzione in più che non sono come dire oneri stratosferici da sostenere rispetto ai quali invece oggi è il centralismo dello Stato e addirittura dell'Europa perché il tema del dimensionamento scolastico nasce anche da un preciso impegno che i governi precedenti il governo Draghi firmò con l'Europa per il PNRR così come la rete ospedaliera è il decreto Lorenzin che stabilisce che la regione Abruzzo deve avere gli stessi parametri della regione Veneto o della regione Lombardia che ha sette volte gli abitanti e aree metropolitane con una densità abitativa 20 o 30 volte superiore alla media della densità abitativa dell'Abruzzo la difficoltà per le piccole regioni Liguria Abruzzo Basilicata Molise Calabria di approvare una rete ospedaliera che sia adeguata ai bisogni di salute e di prossimità di salute dei territori nasce anche questo da un eccesso dirigistico e centralistico di un decreto che porta appunto la firma del ministro Lorenzin del 2015 e che ancora oggi nessuno ha modificato e così per altre piccole questioni famigerato l'esempio dei dragaggi nei porti per spostare la sabbia che si accumula dentro un porto noi dobbiamo avere l'autorizzazione del ministero dell'ambiente perché non è sufficiente che la nostra ARPA come si chiama nelle diverse regioni che la nostra agenzia di protezione dell'ambiente faccia le analisi e possa stabilire a livello regionale dov'è che quella sabbia debba essere ricollocata se è spostata sotto il mare o portata in una qualche discarica o utilizzata diversamente dobbiamo attendere magari mesi se non anni che le procedure di valutazione di impatto ambientale vengano effettuate centralmente dai ministeri ho fatto degli esempi per far capire quali sono magari gli argomenti sui quali una maggiore responsabilizzazione dei territori e una sussidiarietà orizzontale più praticata può aiutare tutti a crescere grazie presidente Marsilio visto che ci diamo del tu ti do del tu vorrei suggerire a fronte della tua relazione di oggi se magari ci fai pervenire anche un documento scritto siccome hai fatto riferimento anche ad alcuni aspetti che a tuo giudizio potrebbero migliorare il provvedimento magari se nel documento li puoi inserire ti ringrazio passiamo adesso al presidente Luca Zaia presidente della regione Veneto anche lei presidente ha dieci minuti a sua disposizione grazie presidente ringrazio presidente Pagano e tutti i componenti della commissione saluto il ministro Calderoli e io posso solo dire che vengo qui a ringraziare questo governo perché avendo io vissuto fin dall'inizio la partita dell'autonomia e ricontando anche di rappresentare una regione che negli ultimi trent'anni ha tentato tre volte di portare in discussione in questo paese il tema autonomia oggi devo dire che da quel 2014 l'anno nel quale noi abbiamo presentato la legge referendaria solo questo governo è riuscito a portarci a questo livello abbiamo una proposta di legge del ministro Calderoli che ha avuto fra l'altro una vigorosa diciamo fase emendativa quindi oggi noi valutiamo una proposta di legge che comunque ha colto sia dalla maggioranza dell'opposizione delle osservazioni devo dire che prendo atto che da quel 2014 nella finanziaria 2022 finalmente è stata introdotta l'obbligatorietà dei LEP per poi anche definirlo tramite la commissione Cassese con la CLEP e nel marzo 15 marzo se non ricordo male del 2023 la legge con i principi generali è la legge della quale stiamo discutendo oggi mi varrebbe da rispondere come rispose il presidente napolitano nel momento in cui io iniziai questo percorso dal Veneto ricordo che il Veneto presentò questa legge referendaria nel 2014 a giugno fu impugnata dall'allora governo e se il Veneto nel 2017 il 22 ottobre andò a referendum ci andò in virtù di una sentenza della Corte Costituzionale non ci andiamo forzando le leggi ma ci andiamo con una sentenza della Corte Costituzionale chiesero al presidente napolitano allora quale fosse la sua opinione rispetto a questi moti quasi carbonari secondo qualcuno del Veneto e lui rispose in maniera assolutamente rispettosa della Costituzione e da garante della Costituzione il napolitano rispose l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità e noi siamo qui per questo lo si capisce dalla parola del collega Marsiglio scusami se ti cito perché comunque noi siamo qui per dire che non è la secessione dei ricchi io sento dichiarazioni che veramente gridano vendetta ho l'impressione che molti di quelli che parlano non hanno mai letto le carte se in Audi il primo gennaio del 48 nel presentare la Costituzione diceva ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che gli spetta penso che non fosse un ubriacone che passasse di lì e disse la sua ma era uno dei padri della Costituzione quindi noi stiamo sostanzialmente dando adempimento alla Costituzione in una maniera legittima legale costituzionale peraltro il Veneto l'ha fatto con una legge referendaria noi abbiamo voluto sentire i cittadini volete che alla regione Veneto siano attribuite nuove forme e condizioni particolari di autonomia questo era il quesito non era l'inizio di una rivoluzione ma è la volontà di dire che 2 milioni 328 mila veneti ovvero il 57,6% del corpo elettorale è andato a votare ma perché noi stessi abbiamo voluto coinvolgere il popolo non ci siamo limitati ad una delibera abbiamo detto beh se volete l'autonomia dimostrate che la volete noi non la interpretiamo come un atto di egoismo pensiamo che sia una grande occasione per il paese disegnare quasi un nuovo rinascimento l'opportunità di poter gestire in proprio molte competenze ben venga il fatto che la commissione Cassese ha definito che 14 delle 23 materie sono come dice il ministro Galleroli leppizzabili debbono essere sottoposte alle leppe nove materie però non lo sono penso anch'io che la gradualità nella definizione delle materie sia uno dei pilastri fondamentali guardate a scanso di equivoci se si è firmata una preintesa quella nasce dalla mia idea visto che prima è stata citata la preintesa col governo Gentiloni che firmò il sottosegretario Bressa proprio con la volontà di dire iniziamo questo percorso io penso che sia un percorso anche di modernità di certo leggere che è la secessione dei ricchi cosa vuol dire secessione dei ricchi vuol dire che tu nottetempo cerchi di fregare il tuo vicino di casa qualche regione magari che non ha degli indicatori proprio ottimali sono regioni in Italia che hanno un comune su due indissesto finanziario e proprio nottetempo tu dovresti fare così come la banda Bassotti cercare di sottrarre qualcosa a qualcuno questo qualcuno non se ne accorse nella totale illegalità noi non stiamo portando avanti questo stanno dicendo semplicemente ed è anche un'esperienza che noi abbiamo avuto assieme con il covid abbiamo dimostrato che comunque la leale collaborazione con lo stato c'è stata fino in fondo ma se non ci fosse stato in quell'ultimo miglio la gestione della regione degli enti locali non avremmo performato come abbiamo performato è stato un grande banco di prova la partita del covid ma potrei anche dirlo lo citavo prima il collega Marsiglio che quando parliamo di sanità parliamo di una competenza ormai che è quasi piena nella stragrande maggioranza insomma della competenza è una competenza regionale e a me non sembra che le regioni abbiano espresso diciamo cattiva gestione della sanità piuttosto c'è qualche regione che ha avuto delle difficoltà e questo lo dobbiamo riconoscere ma abbiamo anche la difficoltà di medici che non ci sono se io potessi decidere di tenere al lavoro i medici che vanno in pensione diciamo che non basta ma aiuterebbe a tamponare questa falla di medici che non ci sono in Italia mancano 50.000 medici e 3.500 di quali mancano in Veneto quindi il tema della lista d'attesa è uno dei temi importanti guardi Presidente io ho letto con attenzione tutte le carte dei lavori del Senato la ringrazio per questa convocazione resto nei miei dieci minuti le dico che noi vogliamo con forza essere parte di questo processo nel dialogo nel confronto non ci scandalizziamo davanti a proposte che magari non sono proprio nelle nostre corte lo abbiamo dimostrato durante la discussione del Senato lo dimostreremo anche qui ringrazio la Camera perché con questa audizione di oggi insomma con i lavori iniziati spero possa portare velocemente in aula il provvedimento e dopo di che dar modo a noi di dimostrare fino in fondo con la scrittura di quello che sarà il documento dell'intesa che peraltro coinvolgerà ancora nuovamente il Parlamento di quale sia la nostra idea di autonomia ripeto non è una una idea barricadera non è un'idea rivoluzionaria non è un'idea che va contro l'unità nazionale come dice qualcuno ma che cosa vuol dire andare contro l'unità nazionale a me risulta che ci sia una nazione con la N maiuscola in giro per l'Europa che risponde al nome di Germania che ha un'autonomia che noi ci sogniamo ha l'autonomia dei Lender la Germania fratto ha scritto la sua costituzione in contemporanea con l'Italia dopo guerra con le macerie fumanti e decise da subito di essere un paese iperfederalista lo volevano anche i nostri padri costituenti e che poi il centralismo ha fatto dei danni in questo paese però la Germania che è il paese di riferimento per l'autonomia in Europa non è percepita come un paese diroccato ma è percepita come una grande nazione quindi dire che si spacca il paese con l'autonomia vuol dire o essere in mala fede o non conoscere fino in fondo qual è il progetto noi siamo a disposizione io non aggiungo altro dico semplicemente che è ritorno a quel referendum in quel referendum noi abbiamo anche imposto il quorum proprio per dire ai cittadini se vi interessa andate a votare il referendum altrimenti noi il dossier lo chiudiamo non chiederemo mai l'autonomia i cittadini sono andati a votare grazie grazie a lei Presidente Zaia passiamo al terzo Presidente che è Arno Compaccia coordinatore dei Presidenti delle Regioni a Statuto Speciale collegato con noi in videoconferenza prego Presidente Compaccia anche lei ha dieci minuti a sua disposizione poi dopo inizieranno le domande dei deputati prego grazie Presidente saluto a tutti ovviamente ringrazio per essere stato convocato ovviamente rappresento realtà anche molto diverse perché le cinque Regioni a Statuto Speciale ovviamente si distinguono sia sul piano economico sociale ma anche diciamo storico per quanto riguarda le varie autonomie e perciò per coerenza forse sottolineo che la mia presa di presentazione è soprattutto quella del Presidente della Regione Trentino Alto Algino che della provincia autonoma di Bolzano noi forse possiamo essere un esempio riuscito diciamo dell'adozione del principio di sussidiarità perché la nostra autonomia nata come strumento di tutela e tutela delle minoranze etnico-linguistiche e ancorato anche il livello internazionale nell'accordo di Gasperi-Gruber si è rilevata soprattutto strumento di sviluppo economico-sociale nell'interesse non soltanto del territorio e adesso arrivo al punto importante ma anche del sistema paese noi ancora negli anni 60-70 la nostra regione era una regione di immigrazione un territorio montuoso e per questo anche povero niente industria niente turismo diciamo agricoltura di montagna e soprattutto tanta immigrazione in Germania austria e altri paesi europei grazie all'autonomia e cosa vuol dire autonomia poter diciamo adeguare la propria legislazione l'amministrazione alle esigenze specifiche del territorio siamo riusciti a evitare lo spopolamento siamo una delle poche regioni nell'arco alpino che non hanno questo fenomeno di spopolamento diciamo delle aree rurali siamo riusciti a costruire un turismo che ha dato sicuramente anche poi una spinta agli altri settori sia a quello delle imprese edili del manufattiero e soprattutto anche creando poi una piccola industria di nicchia oggi abbiamo il PIL più alto d'Italia il PIL che capita nettamente più alto d'Italia anzi siamo tra i primi paesi in Europa secondo AeroStat e anche gli altri diciamo standard o anche criteri che vengono rilevati da AeroStat siamo sempre tra i primi anche per quanto la qualità della vita ahimè anche il costo della vita perché racconto questo per dire una cosa perché oggi non è che soltanto noi grazie all'autonomia abbiamo questo sviluppo molto positivo del territorio siamo anche tra le poche regioni che sono contribuenti netti nel sistema cioè la spesa pubblica complessiva quella statale regionale provinciale comunale sul nostro territorio è nettamente minore di quanto lo sia il gettito fiscale cioè il gettito fiscale supera di gran lunga la spesa pubblica sul territorio noi siamo tra coloro che lasciano residui fiscali importante al sistema paese allo Stato e perciò credo che la nostra realtà sia la dimostrazione del fatto che l'autonomia l'idea dell'autonomia territoriale e di un'ulteriore autonomia territoriale non sia in contrasto con l'idea della solidarietà e dell'unità del paese anzi è sinonimo è sinonimo di responsabilità e solidarietà io spesso il ministro Calleroli che saluto lo sa dico più ci lasciate fare più potremo contribuire questo è un motto che io cerco anche di spiegare ai cittadini in Alto Adige proprio per dire guardate che possiamo essere orgogliosi del fatto che da un territorio che invece aveva ricevuto in un determinato periodo dallo Stato dal sistema paese adesso può restituire anzi sicuramente andando avanti così potremo anche dire con orgoglio che siamo tra coloro che danno un contributo importante di solidarietà a tutto il sistema e perciò noi crediamo che un sistema diciamo di federale un sistema di adozione di questi principi di solidarietà cioè tutto ciò che si può fare nei territori stessi vicino ai cittadini è meglio farlo in quei luoghi in quelle sedi noi siamo convinti è importante questo inserirlo in contesto di solidarietà come detto i LEP sono lo strumento che è stato individuato qui soltanto un'osservazione da parte mia che i LEP non diventino che siano ovviamente nozioni diciamo di livelli essenziali livelli minimi delle prestazioni che devono essere garantite dappertutto e che poi danno anche dei costi standard che sono da collegare al diciamo al finanziamento delle regioni interessate questo sicuramente può andare bene anzi è necessario però che non diventino tetti di spesa o addirittura nozioni e definizioni delle prestazioni perciò si deve poter fare anche in modo diverso e di più altrimenti addio alla sana e virtuosa competizione tra le regioni questo il ministro cagliolo sano a continuo a ripeterlo giusto giusto avere questo principio per poter garantire a tutto il sistema anche un determinato livello delle prestazioni ma comunque lasciare spazio all'autonomia stessa se no si modifica l'autonomia di nuovo diciamo siamo a zero perciò questi lab non diventino tetti di spesa o nozioni delle prestazioni ma diventano davvero indirizzi e garanzie per i cittadini finisco dicendo che adottando un sistema che permetta alle regioni qui condivido assolutamente ciò che ha detto anche il collega Zaire ma credo anche il collega presidente Massilio non lo veda in modo molto diverso credo che se riusciamo davvero adottare un sistema che garantisca autonomia nel senso di una diciamo maggiore spinta anche alla solidarietà lasciando fare le regioni ciò che riescono a fare bene e così permettendo anche l'ulteriore sviluppo che alla fine premia tutto il sistema allora potremo anche avere un passo in avanti per quanto riguarda la pace sociale che sappiamo che è molto importante grazie grazie presidente compaccia che ovviamente anche a lei è rivolto l'invito se vuole ovviamente a farci pervenire un documento scritto ho quindi la parola ai deputati che intendono rivolgere delle domande ai presidenti oggi presenti vedo l'onorevole Sarracino uno per volta poi andiamo con gli altri piano piano grazie vi prego di rivolgere domande secche due domande ai due presidenti qui con noi ringraziandoli ovviamente per la presenza parto dal presidente Marsilio che ha fatto emergere delle perplessità rispetto al disegno di legge Calderoli e quindi io sostengo l'invito anche che ha fatto il presidente rispetto al fatto che ci possono se ci possono arrivare queste perplessità perché è utile migliorare per quanto possibile questo disegno di legge ma vado alle domande il presidente giustamente ha sottolineato una difficoltà rispetto al tema delle infrastrutture che riguardano la sua regione che riguardano in particolar modo ovviamente le aree interne e il mezzogiorno però presidente nell'ultima legge di bilancio lei ha parlato del fondo per equativo infrastrutturale quel fondo ha subito un taglio di circa 3,5 miliardi allora le chiedo se per lei quel fondo non meriti un rifinanziamento perché altrimenti non capisco quali possono essere gli strumenti per ridurre quei divari che ci sono tra varie regioni proprio sul tema delle infrastrutture che è un tema che lei ha toccato così come ha parlato del dimensionamento scolastico come un problema e allora tra gli effetti che possono esserci di questo disegno di legge rispetto alle materie che vengono date alle regioni c'è quello appunto inerente la scuola ovvero la possibilità da parte di alcune regioni cioè delle regioni che ne chiederanno almeno la materia di poter poi alla fine retribuire i insegnanti diciamo in maniera autonoma allora le chiedo lei trova giusto che magari alcune regioni del nostro paese possano retribuire gli insegnanti in maniera superiore agli insegnanti che lavorano nella sua regione e invece poi passo al presidente Zaia che ha parlato di responsabilità qui presidente nessuno di noi ha paura diciamo della parola responsabilità il punto però è che noi chiediamo semplicemente che tutti quanti si possa partire dallo stesso livello a lei pare giusto sembra giusto che ad esempio la spesa pubblica della sua regione nella sua regione circa 19.000 euro cittadino ogni anno nella nostra regione nella mia regione circa 13.500 le pare diciamo che partiamo dallo stesso punto di partenza a me pare abbastanza chiaro che non è così però pongo due domande che sono frutto diciamo anche di alcune audizioni che si sono verificate in queste settimane qui la prima riguarda diciamo alcune criticità che sono emerse durante anche quando si è affrontato il disegno di legge al Senato emerse da chi produce ricchezza quindi da Confindustria dalle imprese che a proposito delle politiche energetiche pensano che un paese con 20 politiche energetiche differenti abbia delle difficoltà a competere nel mondo di oggi lei pensa che la sua regione con una propria politica energetica autonoma possa pensare di competere davvero nel mondo quando invece noi crediamo che oggi ci sia bisogno di avere una politica energetica dell'Unione Europea e non diciamo di spacchettare il nostro paese con 20 politiche energetiche differenti e l'altra domanda che frutto ripeto di un'audizione che abbiamo avuto qui la scorsa settimana fatta dalla fondazione Gimbe che parla di un colpo molto duro alla sanità non soltanto alla sanità del mezzogiorno perché colpire la sanità del mezzogiorno diciamo in qualche modo crea una difficoltà anche alla sanità del nord perché se io cittadino campano sono costretto a venirmi a curare nella sua regione in realtà sto ledendo anche il diritto dei suoi cittadini a curarsi nella regione in cui loro appunto hanno il diritto a curarsi allora lei non crede che questo tema soprattutto quello che riguarda la sanità in realtà colpendo il mezzogiorno avrà un'influenza anche nella sua regione bene grazie passiamo adesso all'onorevole Alfonso Colucci tra il tempo chiedo ai presidenti di prendere magari appunti sulle domande che gli vengono rivolte prego all'onorevole Alfonso Colucci grazie presidente mi rivolgo in primo luogo al presidente Marsilio noi sappiamo dalle analisi che sono state svolte che l'aspettativa di vita dei cittadini delle regioni del mezzogiorno è sensibilmente inferiore rispetto all'aspettativa di vita di quelle del nord e tra queste la regione Abruzzo sappiamo anche che la regione Abruzzo si contraddistingue per il cosiddetto la cosiddetta sanità passiva e cioè per il fatto che i cittadini si trasferiscono ad altre regioni per potersi curare e questo è un tasso molto alto oltre al trasferimento interno da una all'altra e alla lontananza che i cittadini abruzzesi lamentano dai presidi ospedalieri questo anche dato l'articolato struttura orografica del territorio abruzzese che conosciamo sappiamo anche della lunghezza delle liste d'attesa e sappiamo anche signor presidente che molti cittadini abruzzesi ormai desistono dal curarsi perché non possono accedere alla sanità privata ora le chiedo come lei pensa in una regione come l'Abruzzo che è una regione che ha una capienza fiscale limitata non essendo tra le regioni più ricche d'Italia e che quindi può autofinanziare in maniera ridotta la sanità abruzzese insieme agli altri servizi come ritiene di poter portare con l'accesso all'autonomia differenziata il livello sanitario dei cittadini abruzzesi ai livelli sanitari dei cittadini lombardi o veneti non pensa che questa scelta possa pregiudicare i cittadini che l'hanno appena eletto al presidente Zaia chiederei questo abbiamo letto presidente il rapporto statistico 2023 del Veneto che descrive una realtà imprenditoriale molto brillante e dinamica e che peraltro ha un occhio molto attento soprattutto alle dinamiche lavorative verso i giovani sappiamo quanto ricca sia l'attività imprenditoriale del Veneto e quindi io le chiedo come pensa che l'autonomia differenziata possa aiutare le imprese del Veneto ad espandere la propria attività imprenditoriale al di là del limite territoriale regionale così confrontandosi con legislazioni diverse come potrebbero essere quelle delle regioni confinanti e qui parliamo di materie come la tutela dell'ambiente la tutela e la sicurezza del lavoro i porti e gli aeroporti civili le grandi reti di trasporto e di navigazione come pensa che la frammentazione degli ordinamenti giuridici regionali possa consentire lo sviluppo imprenditoriale delle imprese del Veneto perché veda presidente lei ha adotto come esempio la Germania ma forse lei dimentica che in Germania i Lender sono unificati da un accordo federale e questa autonomia differenziata differenzia ma non federalizza perché manca un quadro di accordo federale e di conseguenza quando noi facciamo i paragoni le comparazioni a diritti stranieri dobbiamo essere molto prudenti perché il contesto istituzionale tedesco è molto diverso da quello che si propone con questo disegno di legge e quindi le chiedo non teme che questa autonomia differenziata possa creare dumping sociale questa formula sintetica ora non impegno tempo dumping sociale a carico e a danno dei cittadini delle imprese venete ultima notazione presidente mi rivolgo al presidente compaccia il quale mi sembra abbia scolpito bene nel applaudire a un regionalismo di tipo competitivo che questo disegno di legge introduce ha scolpito in maniera molto limpida la sua distanza dal nucleo e dall'essenza costituzionale che invece ha definito il regionalismo il regionalismo della nostra costituzione come collaborativo e solidaristico e niente affatto come competitivo direi che le sue dichiarazioni scolpiscono in maniera limpida l'anticostituzionalità di questo provvedimento grazie allora adesso passiamo all'onorevole Cuperlo poi andiamo avanti volevo semplicemente e cortesemente rivolgermi a voi colleghi deputati e dirvi che siccome siete tanti magari se gentilmente e cortesemente rivolgete direttamente la domanda al presidente di riferimento onorevole Cuperlo grazie presidente e grazie ai due presidenti che sono intervenuti voglio fare i complimenti al presidente Zaia per lo splendido titolo del suo libro perché la creatività nei titoli dei libri è importante l'ho molto apprezzata ai due presidenti le domande sono molto rapide la prima ha un carattere lessicale se i nostri interlocutori sarebbero favorevoli a sostituire la formula l'acronimo LEP con l'acronimo LUP cioè sostituire i livelli essenziali delle prestazioni con i livelli uniformi delle prestazioni così da impedire disuguaglianze anche dal punto di vista del principio e del concetto linguistico la seconda domanda è se ritengono di poter essere favorevoli a sottrare alla competizione tra Stato e regioni e tra regioni e regioni alcune materie essenziali per l'espressione dell'unità e dell'uguaglianza effettiva del Paese materie che è stato già accennato dai colleghi che mi hanno preceduto già oggi aprono dei varchi per lesioni di quel principio di unità e di parità nella funzione di diritti essenziali a cominciare dalla sanità e dalla scuola nello specifico in particolare mi riferisco alla possibilità di delegare alle regioni funzioni attualmente non ricomprese nei LEA come gestione retribuzione del personale e istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi cosa che renderebbe possibile una maggiore spesa nelle regioni richiedenti sottraendo risorse alle altre regioni su questo mi pare che vi sia stata in sede di audizione una specifica uno specifico rilievo da parte dell'ex governatore della Banca d'Italia a proposito dei LEAP se condividete questa valutazione la terza ultima domanda è se siete favorevoli ad introdurre una clausola di supremazia per le leggi statali come esistono in stati federali a partire da Stati Uniti e dalla Germania che è stata citata opportunamente nella breve relazione ma molto esplicita del governatore del presidente Zaia infine al presidente Zaia una valutazione che so esula un po' dall'ordine diciamo del giorno di questa audizione forse una valutazione più politica che io le chiedo ma una serie di interlocutori forse politiche alleate del suo partito a livello europeo in vista in previsione delle prossime elezioni europee si caratterizzano in termini di identità e proposta politica per la richiesta di un primato del diritto interno sul diritto comunitario lo traduco un po' rozzamente un primato dell'Europa delle Nazioni sulla logica del manifesto di Ventotene lei non pensa che da questo punto di vista rischiate di essere scavalcati a destra dalle alleanze con le quali state costruendo la vostra proposta politica per il futuro dell'Europa grazie grazie onorevole Cuperlo voglio solo ricordare che tra 15 minuti inizia l'aula io quindi sono costretto a interrompere i lavori è una notazione non di sola forma ma soprattutto di sostanza onorevole Alifano no 15 minuti 16 e 15 adesso che sono sì 25 grazie presidente tra l'altro io sarò telegrafica come sempre mi rivolgo innanzitutto al governatore Marsilio che ha rilanciato il tema delle infrastrutture delle grandi infrastrutture che tra l'altro sono tra i temi leppizzabili così li ha definiti ora io vorrei capire come in quale modalità si possa prevedere un piano di grandi infrastrutture che poi è un tema centrale proprio anche per lo modernamento e per il rilancio del nostro paese e delle varie regioni se non c'è una concertazione a livello nazionale quindi come è possibile pensare che queste in questo campo possano essere consentite ulteriori formi di autonomia cioè qual è il disegno sostanzialmente perché è un'opera che porti merce e persone dall'est all'ovest del nostro paese giustamente il governatore Marsilio sottolineava proprio la difficoltà di andare da una parte all'altra della nostra penisola non solo al nord-sud ma anche collegare l'est con l'ovest visto che c'è la dorsale appenninica come è possibile regionalizzare e nello stesso tempo prevedere una normativa regionale consentire ulteriori forme di autonomia in un tema e in una materia che di necessità deve essere prevista a livello nazionale poi un'altra domanda che potrei rivolgere anche al governatore Marsilio ma anche al governatore Zaia allora in questo disegno di legge gli enti locali un po' scompaiono nel senso che è previsto solamente una funzione consultiva meramente consultiva non si comprende non si comprende nemmeno a che livello possa avere questo risponso da parte degli enti locali sia dall'articolo 2 sia al comma 1 che al comma 5 ora l'autonomia differenziata avrà una grossa ricaduta proprio sugli enti locali perché a loro secondo l'articolo 6 dovrebbero essere trasferite funzioni che dovrebbero poi assolvere risorse e funzioni ora se secondo loro è necessaria una correzione in modo da dare una maggiore importanza un maggior valore agli enti locali anche credo che il governatore Marsilio sottolineava le difficoltà riprendendo anche il tema che è stato sviluppato in un'opera cinematografica che adesso è uscita nelle sale delle difficoltà per esempio delle aree interne dei piccoli comuni che vivono fenomeni di spopolamento quindi se loro ritengono che sia necessario operare un correttivo a questo disegno di legge consentendo una maggiore interlocuzione con gli enti locali anche in virtù delle critiche che sono state mosse a più riprese da Anci grazie onorevole Cappelletti prego anche lei le prego di essere sintetico sarò sintetico mi rivolgo in particolar modo a Presidente Zaia va dato atto che c'è stata una grande attività a favore dell'autonomia sia a livello regionale che a livello nazionale e di questo va dato atto a Presidente Zaia di essere sicuramente tra i protagonisti se non il protagonista però dire che sono 30 anni e stiamo arrivando adesso al risultato di 30 anni di lavoro della sua parte politica rispetto a questo mi sembra un po' esagerato per un motivo fosse solo uno quando si è trattato di votare la riforma del titolo quinto della Costituzione che è il motivo per cui ci troviamo qui in questo momento se non ci fosse stata non staremo qui e beh la Lega mi correga Ministro Cardero se sbaglio voto contro quando ai cittadini italiani viene chiesto ai cittadini del Veneto anche in particolar modo di andare a votare al referendum confermativo di quella modifica costituzionale la Lega e quindi anche lei Presidente Zaia che era già dirigente del partito se non mi sbaglio all'epoca diede indicazione ai cittadini del Veneto italiani in generale di votare no alla riforma del titolo quinto della Costituzione ora mi direte ma è passato tantissimo tempo avete ragione è legittimo cambiare idea avete ragione anche a 180 gradi avete ragione per carità è passato moltissimo tempo però è anche giusto per relativizzare in qualche maniera la discussione che c'è in corso in questo momento è stato detto dal Presidente ma con il Covid non abbiamo performato non avremmo performato come avremmo voluto beh però Presidente noi abbiamo avuto un record di decessi nella seconda ondata del Covid questo a livello nazionale peggio della Lombardia ma non volevo soffermarmi arrivo alla domanda la prego perché manca poco tempo mi consenta di fare un esempio e arrivo alla domanda un esempio solo la questione è perché facciamo questa riforma perché trasferiamo dei poteri alle regioni che possono gestire la ministrale con maggiore efficienza ed efficacia mi faccia fare un esempio Presidente per la Montana Veneta la superstrada che costa 2 miliardi 258 milioni verrà a costare i cittadini del Veneto e i cittadini italiani 13 miliardi di euro cioè come se ne avessimo fatte 6 Presidente una sotto l'altra e sono d'accordo ma il prezzo compiene anche il mantenimento anche la gestione per 39 anni è irrilevante lo sappiamo con queste cifre gigantesche il prezzo di mantenimento di gestione è assolutamente irrilevante praticamente per dare un'idea della dimensione e concludo è il doppio di 40 anni della Salerno o Reggio Calabria che è 4 volte più lunga quindi concludo e la mia domanda è questa ma è questo Presidente il modello che avete in mente di efficienza legato a questa riforma grazie Onorevole De Luca Grazie Presidente ringrazio anche io Presidenti per la disponibilità a questo confronto io diciamo ho apprezzato le parole del Presidente Zaia quando dice che noi dobbiamo provare a creare un paese in cui ci sia una capacità di competere tra le regioni ma la competizione è una competizione equa quando le regioni hanno lo stesso punto di partenza le condizioni e le regioni sono allo stesso punto di partenza la sua regione da prima che lei governasse al di là della sua gestione quella del Presidente Marsilio parte una condizione di partenza profondamente differente in tutti i settori decisivi che sono oggetto della ipotesi di autonomia differenziata sanità politiche sociali trasporto pubblico locale scuola e potrei andare a lungo allora perché questo suo assunto possa essere diciamo realizzato si dovrebbe fare due cose uno non solo scrivere che i LEP devono essere definiti prima di ipotizzare qualunque proposta di intesa ma che i LEP debbano essere finanziati lei è d'accordo su questo cioè sul prevedere che prima che qualunque tipo di intesa possa essere solo ipotizzata lontanamente debbano essere finanziate le materie LEP su cui poi questa intesa necessariamente incide e agisce cioè vuol dire per essere concreti che debbano essere finanziati livelli essenziali di prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme omogeneo uniforme per riprendere l'espressione del collega in tutti i territori italiani ad oggi abbiamo il 20% di studenti al sud che hanno diritto alla mensa scolastica rispetto al 50% del nord 20% tempo pieno rispetto al 50% del nord emigrazione sanitaria 4 miliardi e 2 dati GIMBE ma è evidente che abbiamo un paese oggi diviso noi dovremmo fare una cosa fare quello che non è stato fatto cioè rifinanziare il fondo per equativo infrastrutturale e fare quello che noi abbiamo fatto nel PNRR cioè mettere almeno il 40% della soglia di risorse da spendere per il centro sud cioè dobbiamo recuperare le distanze e le diseguaglianze prima di poter far ripartire la macchina del paese in Germania prima di fare quello che le diceva sa cosa hanno fatto hanno introdotto in norma di trattato nei trattati europei le norme sugli aiuti di Stato per la Germania dell'Est ci hanno consentito delle deroghe che la Germania ha negoziato con l'Europa per recuperare i ritardi economici sociali a Germania dell'Est rispetto alla Germania dell'Ovest solo dopo che questo percorso è stato concluso hanno avviato tutto il resto o l'hanno avviato in contemporanea non è immaginabile di far partire delle intese in Italia se ci sono oggi dei livelli dei divari delle diseguaglianze così elevate perché vuol dire cristallizzare quello che oggi si chiama spesa storica e anzi ridurre il finanziamento rispetto alla spesa standard che è o si standard che ne dovremmo assicurare allora per questo io non capisco come può il Presidente Marsilio non porsi delle problematiche di elettricità rispetto a questo impianto e non essere profondamente preoccupato come lo siamo noi perché la domanda è questa siete disposti a far modificare la norma di legge a chiedere che vengano finanziati l'EP sì o no benissimo oppure però Presidente non è per lei vorrei far rispondere il Presidente ma non è colpa mia se lei non organizza bene i lavori allora è colpa mia è colpa nostra e scusi ci deve dare la possibilità di parlare di interroguire se no non sono audizioni concluda con la domanda concluda con la domanda e ogni volta è la stessa storia abbiamo iniziato sulla discussione generale ci ha interrotto mentre la stavamo facendo si ricorda e abbiamo ripreso sempre ma non mi pare che stiamo discutendo di una proposta secondaria o marginale allora si concluda va davanti se non mi interrompe avrei già concluso se non mi interrompe è d'accordo su questo principio cioè modificare questo impianto e la proposta passata già al Senato per chiedere che vengano finanziati l'EP eliminata questa combinato disposto con l'invarianza finanziaria perché l'invarianza finanziaria che citava il Presidente Marsilio è un inganno la misura in cui quando una Regione si attribuisce o richiede una forma di autonomia per una materia sottrae necessariamente quelle risorse necessarie alla fiscalità generale questo vuol dire il residuo fiscale di cui lei ha parlato vuol dire realizzare quella secessione dei ricchi di cui lei parlava che non comprende è molto scritta dentro la legge la secessione dei ricchi allora se è d'accordo a non portare avanti questa secessione dei ricchi proponga al governo della sua forza della sua forza politica di eliminare questa possibilità cioè di andare avanti senza finanziare prime livelli e senza ripristazioni cioè senza recuperare i distanze e i divari che oggi esistono nel Paese le chiediamo una risposta su questo molto chiara e netta l'ultimo all'onorevole Ricciardi e poi proseguiamo con le risposte dei Presidenti grazie Presidente sarò brevissimo mi concede una battuta per stemperare se la Lega ha votato bene è quando ha votato contro il titolo quinto lo dico io quindi è a scanso di equivoci detto questo domanda intanto ringrazio i Presidenti per la partecipazione per quello che ci hanno detto al Presidente Marsilio ho avuto la sensazione ascoltandola che noi stessimo dinanzi alla scelta di un Presidente che a un certo punto deve scegliere come se alla card qual è la delega che prendo e quella che non prendo allora io mi chiedo lei a questo punto chiederebbe o non chiederebbe la delega ai trasporti perché lei ci ha fatto le stesse osservazioni legittime del suo collega delle Marche perché la condizione strutturale delle infrastrutture è quella che è i gap sono quelli che sono quindi mi chiedo lei quali deleghe chiederebbe e rispetto perché ha invocato anche il pari trattamento e che non ci sia invarianza delle risorse che vengano mandata alle regioni che non fanno quella richiesta allora si è posto la domanda nel caso in cui per ipotesi il 70-80% delle regioni chiedano delle deleghe e la sua regione o altre due non la chiedono che cosa accade a quel ministero che cosa accade a quei fondi lei chiede se è fatto al Presidente Zaya da Scrunkesetz all'articolo 72 diciamo che dice una cosa un po' diversa la citazione storica io la amo molto perché lei è un fine scrittore e lettore però se vogliamo fare un'analisi storica allora facciamola tutta l'analisi storica di questo paese allora la domanda che le pongo è molto semplice al Presidente per lei mi dia la definizione di unità d'Italia perché delle due l'una o noi siamo o lei è convinto che Banfield e il familismo amorale fosse la definizione che viene data al Mezzogiorno d'Italia oppure mi dia una spiegazione se possibile lei come immagina di tutelare il principio costituzionale dell'unità del paese rispetto a un percorso storico che non inizia né con Sturzo che immaginò le regioni né con tutto il dibattito né con De Gasperi ma inizia un tantino prima grazie allora cominciamo con il Presidente Marsilio prego Presidente Marsilio se può si dico soltanto lo dico lo dico al Presidente Marsilio e al Presidente Zaia ma anche al Presidente Compaccio che abbiamo soltanto 11 minuti a nostra disposizione prego Presidente Marsilio prego risponda pure gentilmente alle domande che le sono state rivolte grazie siccome mi viene più volte chiesto se sono preoccupato o meno e quali perplessità avessi potrei dire che ero molto preoccupato quando il PD fece la riforma del titolo quinto della Costituzione senza aver creato nessun sistema diciamo di garancia poi quando Gentiloni firmò la preintesa senza che esistesse alcuna legge che stabilisse quali erano i diritti delle altre regioni che non chiedevano l'intesa successivamente quando Conte proseguì il negoziato in assenza di una qualunque forma di ruolo del Parlamento e delle regioni Boccia ministro con le stesse deleghe di Calderoli venne a Pescara e mi ritrovai sui giornali che lui e il suo partito mi strigliavano perché ero colpevole unico in Italia unico tutt'oggi unico perché mentre i miei colleghi di regione anche del PD sgomitano per avere l'autonomia io sono l'unico che attende la fine di questo percorso e di sapere di che cosa stiamo davvero parlando perché fino ad oggi tranne chi si è fatto promotore con il percorso che ha ricordato Zaia di questa proposta per il resto nessuno sa di che cosa stiamo parlando dopodiché il fondo di perequazione naturalmente come tutti i fondi più si alimenta e meglio è quindi sta al Parlamento decidere come allogare le risorse ma non esiste solo il fondo di perequazione c'è il fondo sviluppo e coesione che se invece di essere utilizzato per le sagre viene correttamente utilizzato per fare porti ferrovie autostrade aiuta aiuta a colmare il divario infrastrutturale all'onorevole Colucci dico che quello che lei ha parlato di mobilità passiva o di liste d'attesa riguarda tutta l'Italia non soltanto l'Abruzzo basta informarsi è finita la campagna elettorale contro l'Abruzzo ed è finita come sapete e la sanità già si autofinanzia per molti versi come lei sa perché io oggi sono siccome la mia regione è sotto tavolo di monitoraggio rafforzato dal Ministero delle Finanze e della Salute perché dopo le note vicende che portarono in carcere un presidente di centrosinistra e il commissariamento successivo della sanità il commissario fu Gianni Ghiodi commissariamento finito a metà della legislatura precedente con il presidente D'Alfonso tutt'oggi noi siamo sottoposti a tetti di spesa che ci impediscono di fare niente che non sia previsto esattamente da Elea tutte le altre regioni possono già intervenire con proprie risorse la regione toscana che ha sforato di 400 milioni il bilancio regionale integra con 400 milioni di risorse proprie di bilancio ordinario aumentando l'IRPEF magari i soldi che non riesce la regione Abruzzo non ha sforato il bilancio sono 5 anni che presento i bilanci delle ASL in pareggio con questi obblighi pensi che qualcuno prima di questa legislatura mi citò di fronte alla Corte Costituzionale impugnando una legge che prevedeva di dare contributi ai malati oncologici per le parrucche per il sostegno anche psicologico e mi venne eccepito da parte del governo di allora che non potevo farlo perché non era previsto da Elea questo tipo di contributo e di azione abbiamo vinto di fronte alla Corte Costituzionale dimostrando che avevamo messo soldi diversi da quelli del fondo sanitario dopodiché le questioni lessicali onorevole Cuperlo non mi appassionano quindi non sono contrario se volete chiamarvi invece che l'EP l'UP fatelo se è più chiaro diciamo e se questo può portare come dire ad un'intesa per carità l'importante è che sia chiaro di che cosa stiamo parlando non posso che essere d'accordo con clausole di supremazia che però mi sembra che siano più volte richiamate in diversi articoli della norma cioè sul fatto che il governo quando ritiene che questioni strategiche siano compromesse dalla concessione di autonomia o nell'esercizio dell'autonomia una regione faccia qualche cosa diciamo di dannoso per l'unità dello Stato e i diritti complessivi questa previsione c'è poi io non sono come dire la commissione competente siete voi per verificare poi i passaggi ma mi sembra alla lettura che ne ho fatto che questo intervento esplicito più volte richiamato della potestà del governo di intervenire per raddrizzare una struttura o richiamare un'urgenza e un'emergenza sia assolutamente pronta sul finanziamento dell'EP penso che anche qui almeno questa è la mia interpretazione l'articolo 3,4 dice chiaramente che l'EP non devono soltanto essere determinati ma devono essere applicati garantendo l'equità e la garanzia che vengano esercitati e ciò vuol dire nel mio modo di leggere l'italiano che debbano essere ovviamente finanziati e messi in campo se si vuole scrivere in maniera più chiara come dire siete padroni i legislatori siete voi ma a me sembra che sia assolutamente presente questo aspetto sulla delega ai trasporti non so a che cosa si riferisca di preciso le infrastrutture di cui parlo sono infrastrutture che non sempre riguardano una sola regione quindi ci sono infrastrutture che riguardano collegamenti su area vasta che devono necessariamente essere previsti con un intervento forte diretto del governo e mi appello in questa sede a tenere presente questo aspetto perché torno a dire che se dal capoluogo di regione non c'è un collegamento diretto con la capitale della Repubblica e siamo a meno di 100 km di strada di distanza tra l'Aquila e Roma e andarci in treno significa fare un cambio o a Sulmona o a Terni e metterci tre ore e mezzo per colmare 100 km mentre tra Milano e Bologna tra Bologna e Firenze tra Roma e Napoli si viaggia a 250-300 all'ora qualcuno viaggia a 50-60 all'ora questa è una vera sperequazione sulla quale dobbiamo intervenire e sulla quale chiedo in questa occasione al Parlamento perché non è una questione regionale stiamo parlando di una regione che è al centro dell'Italia peraltro non è così poverissima siamo la settima regione industrializzata d'Italia e abbiamo un PIL medio e un arreddito pro capite ormai prossimo a quello della media nazionale quindi non stiamo come dire nella condizione di sottosviluppo siamo da troppo tempo regione in transizione questo è un altro tema quindi non voglio rubare e potremmo approfondirlo in un'altra occasione però torno a dire che se questo percorso di autonomia e di perequazione si vuole investire davvero sulla perequazione infrastrutturale bisogna mettere risorse importanti per cucire il Paese perché a metà dello stivale i collegamenti trasversali e longitudinali tra nord e sud e tra est e oest vedono l'Abruzzo esattamente al centro del sistema Paese ed è una questione nazionale risolvere definitivamente questo tema abbiamo fatto i primi passi bisogna completare l'opera e ringrazio il governo Meloni per aver messo sulla corretta binario il tema dell'autonomia e aver costruito il quadro come dire l'intelagliatura di garanzia che il Parlamento potrà come dire ulteriormente arricchire e migliorare questo è il vostro compito e la vostra missione e noi siamo qui anche a dare suggerimenti e vedrò di farli pervenire se lo riterrò utile e opportuno grazie grazie presidente Marsilio prego presidente Zaia come? guarda io non lo trovo scritto in questa norma a volte accade già con le leggi esistenti però che in diversi settori questo già accade perché la contrattazione decentrata è un istituto largamente praticato in quasi tutte se non tutte le categorie di lavoratori io non lo trovo scritto in questa norma no non è un effetto perché le intese vanno ancora scritte le intese vanno ancora scritte quando saranno scritte se ci saranno cose che producono distorsioni avremo le sedi compresa la conferenza unificata dove le regioni esprimono il parere sulla richiesta delle altre regioni quindi grazie per aver risposto presidente Marsilio la ringrazio prego presidente Zaia può rispondere anche lei gentilmente le domande velocemente grazie mi scuso già se magari pronuncio male dei nomi perché li ho scritti al volo l'onorevole Saracino giusto ma in generale l'esempio che fa con io ho letto la relazione del Gimbe Gimbe dice fondamentalmente sembra quasi un contrapasso no? cioè la fuga l'efficienza diciamo che darebbe l'autonomia a una regione ad esempio come il Veneto provocarebbe una fuga da regioni meno efficienti dal punto di vista sanitario e quindi quasi come contrapasso dantesco il Veneto si ritroverebbe a non riuscire più a dare servizi ai propri cittadini perché sarà sommerso da sta specie di diaspora sanitaria nazionale allora il vero tema è un altro il Veneto io vedo spesso i dati e si dice ma il Veneto ha 300 milioni di mobilità sanitaria attiva significa che da fuori regione arrivano dei cittadini della nostra regione allora io penso che l'autonomia debba innanzitutto fare in modo di creare le condizioni affinché i cittadini possano curarsi a casa loro io trovo immorale che ci siano cittadini che sono costretti a fare le valigie per curarsi fuori regione e la colpa non è del Veneto della Lombardia dell'Emilia Romagna o di qualcun altro la colpa è di chi governa quelle regioni e non sto parlando degli attuali governatori perché sono regioni che hanno avuto problemi sistemici le faccio un esempio nella mia regione non abbiamo abdicato a curare i cittadini nella sanità pubblica sono regioni che hanno anche percentuali di sanità privata elevatissime quindi vuol dire che hanno deciso che si fa così questo negli anni quando ci venite a dire che c'è l'immigrazione sanitaria dovreste guardare i dati perché i DRG ci dicono che i cittadini che vengono da noi a curarsi non vengono per il tunnel carpale per l'appendicite per l'ernia dove comunque la regione riesce a pagare i suoi costi ma vengono per danni sanitari e grosse diciamo problematiche sanitarie dove le regioni a casa loro non si sono specializzate non si dica poi che non hanno mai avuto risorse perché anche sul tema delle risorse riguardavo i dati del MEF adesso i trasferimenti della campagna se non ho capito male però io parlavo del forze del Estado del Consiglio della regione non ho detto la società pubblica di a 9000 e la protezione significa che sono ancora probabilmente che è il pensamento ma parlavo di un'unica non so tanto per io evitavo anche di parlare di queste robe se io non ne parlavo e quindi dicevo ad esempio il trasferimento delle risorse statali pro capite in campagna di 4.037 euro in veneto 3.698 ma guardi potrebbe essere anche che voi avete ragione però però chiedo scusa chiedo scusa chiedo scusa siccome siccome ho capito ho capito però per adesso fate Ziello tocca a me tocca a me dirigere i lavori prego prego Presidente vada avanti poi dopo dopo a conclusione potete dire quello che vuole concluda Presidente Zaia prego per concludere quindi il tema di questo ragionamento sui numeri se sono falso vuol dire che dovete chiedere al Ministero ma in italiano falso è un'altra roba non è parziale però chiedo scusa ho citato un dato Presidente allora prendiamo un altro dato visto considerato che avete gli FSC all'80% il PNRR al 40% prendiamo un altro dato Presidente Presidente mi scusi Presidente risponda alle domande che le avevano fatto il dialogo non è previsto da questo tipo di era una domanda volevo solo dire che il Veneto qui ha 103% di utilizzo di fondi comunitari e voi in campagna dell'82,3% quindi ve ne danno tanti e ne spendete pochi fondi comunitari sono sempre dati ufficiali guardi ma guardi io non sono venuto qui a fare ma anche non mi agito per cortesia per cortesia beh senta Presidente lei risponda senta senta Presidente risponda alle domande che sono state rivolte e la finiamo lì dai io pensavo funzionasse come in Veneto che voi fate le domande io rispondo ho capito ho capito che qua non funziona così e non esiste che lei mi dice lei deve ha capito perché io non accetto gli occhi l'ha capito sta roba per cortesia Presidente si rivolga a me sono io il Presidente ha ragione scusi Presidente risponda si si ovviamente ma scusa ma chi è che ha mancato di rispetto chi è mancato di rispetto per cortesia facciamo concludere la risposta del Presidente Zaia Presidente prego io non ho mancato di rispetto che sia chiaro certo concludo le risposte rispondendo all'onorevole De Lucca così vado resto in campagna diceva i LEP finanziati prima dell'intese a me sembra un'ottima osservazione ma c'è già vabbè andremo a verificare che ci sia ma a me sembra ovvio a me sembra ovvio che quando nella finanziaria 2022 voi ne avete fatte tante prima finanziaria e ci dicevate sempre se non ci sono i LEP non si può fare l'autonomia e quando hanno arrivato hanno detto facciamo subito questi LEP è innegabile che sia accaduto questo quindi penso che nel momento in cui abbiamo definito che 14 materie devono sottostare ai LEP io condivido pienamente che prima di arrivare alla devolution alla devoluzione delle competenze si definisca che ovviamente però dobbiamo guardarci nelle palle degli occhi come si dice da mia parte stabiliti i LEP vanno applicati non è che se poi i LEP non conviene applicarli non si applicano lo dico da Veneto perché in Veneto potrebbe essere che noi siamo diciamo diseconomici su alcune partite ed è giusto che ci adeguiamo i LEP e viceversa e poi guardate a volo d'uccello velocemente l'onorevole Ricciardi parlava dell'unità d'Italia ma Carducci ha risposto mi è venuto in mente Carducci quando gli ha chiesto di fare un compito un tema su sua madre Carducci disse mia madre mia madre punto e basta l'Italia l'Italia punto e basta però ci aggiungerei anche un'altra cosa che i grandi studiosi del federalismo ci dicono che il federalismo è centripeto aggrega i paesi il centralismo è centrifugo li disgrega e quindi io direi che se noi crediamo nell'unità d'Italia dobbiamo avviare tutto quello che è federalismo ovvero di condivisione con i territori non è un caso che i padri costituenti scrissero una costituzione che era autenticamente federalista questo penso lo riconosca la nostra costituzione non è centralista Don Sturzo nel 49 l'ha citato lei diceva sono unitario ma federalista impenitente e Don Sturzo aveva un statuto pre-costituzionale del 46 quello della Sicilia quindi non sono convinto che sia una partita del nord subita dal sud ma sono convinto che sia una partita comune ma glielo dico in maniera costruttiva poi c'erano scusatemi per gli altri interventi l'onorevole Cuperlo leppo lup io ho capito qual è adesso sarà il ministro Calderoli a definire l'importante che si definiscano questi lei ha parlato giustamente livelli uniformi delle prestazioni giustamente introduce anche un altro principio che è quello di capire diciamo quali sono poi i costi standard cioè tutti quei temi che comunque vanno affrontati a prescindere da avere la latitudine in mano non è un problema di latitudine è un problema di efficienza del paese condivido anch'io che sulla supremazia nazionale abbiamo parlato in tutti i modelli federalisti esiste la clausa di supremazia nazionale quindi non è una novità e non è neanche un grande risultato dell'eroismo dell'opposizione in tutti i modelli federalisti esiste la causa di supremazia nazionale e se può concludere perché sono iniziati i lavori in aula gentilmente presidente guardi mi sono segnato e poi l'onorevole Alifano i comuni vengono sicuramente coinvolti consideri che anche in questa fase a prescindere poi da quello che sarà la manovra emendativa sul provvedimento noi nello scrivere l'intesa dobbiamo fare il passaggio con gli enti locali quindi non è che facciamo una cosa tutta veneta o tutta regionale perdonatemi dall'altro io se vuole la mia idea sono anche convinto che nel momento in cui si avrà e si attuerà l'autonomia differenziata alle regioni sarà sempre più relegato un ruolo di legislatore e tutta la parte diciamo di attuazione di gestione delle leggi deve passare ai comuni alle province ma è inevitabile questo questo lo dicono gli altri modelli federalisti non ho capito la domanda sì la domanda per favore Presidente al centro della riforma di cui stiamo parlando c'è la necessità di dare erogare servizi e prestazioni con un livello di efficienza ed efficacia maggiore negli ultimi decenni non negli ultimi anni negli ultimi decenni nella nostra regione nel Veneto di infrastruttura faccio un esempio perché ho un minuto per fare un esempio potremmo parlare anche di altre cose ma ne è stata realizzata una sola un'infrastruttura che le sa benissimo che costa 2 miliardi 258 milioni il Veneto la regione Veneto che le rappresenta spenderà 300 milioni all'anno in media da qua i prossimi 39 anni per la durata della concessione per un importo di 12 miliardi di euro per ripagare quest'opera che costa 2 miliardi 258 milioni quindi 11 miliardi in più mi chiedo e le chiedo ma secondo lei è questo il modo per condurre per gestire la cosa pubblica in maniera efficace seguendo quella che dovrebbe essere la diligenza del buon padre di famiglia mi pare che in un'opera pubblica una che è stata realizzata importante nella nostra regione sia stato speso 6 volte di più quello che ci sarebbe dovuti spendere grazie la peda montana ha un'infrastruttura di 94 chilometri e mezzo più 68 di strade nuove non a pedaggio ha un'infrastruttura che interessa 36 comuni a 14 caselli i 2 miliardi 258 milioni di euro quando fate la divisione dovete fare diviso 94 fra parentesi perché poi c'è anche la regola matematica 94.5 più 68 chiusa parentesi allora vive fuori il conto giusto al chilometro vedo che sbagliate continuamente i conti il canone di disponibilità è un canone che andrà a 160 170 quello che adesso vedremo di capire l'evoluzione c'è un piano finanziario dedicato però io volevo dire una roba questa è un'infrastruttura che da uno studio di confrattigianato a non averla avrebbe diciamo una minus per il sistema economico di almeno 5 miliardi di euro uno studio presentato non più tardi di 20 giorni fa però al di là di tutto questo volevo ricordarle che in Veneto sono state non parlo di opere che ho fatto io anche questa è un'opera che io ero editato e volevo ricordare che in Veneto sono state realizzate più opere non solo opere di montana abbiamo realizzato il Mose tanto contestato ma Venezia non va più sott'acqua se ne è accorto abbiamo realizzato il passante di Mestre ma se non c'erano i Veneti a chiederlo a programmare a progettare non avremmo fatto questo bene benissimo chiedo scusa chiedo scusa presidente il 4 giugno 2014 erano arrestato 105 persone non c'è un leghista arrestato ma non è leghista è chiaro parliamo di autonomia differenziale io e lei abbiamo lo stesso record non abbiamo nessuno arrestato ecco benissimo io la ringrazio presidente concludo qui ringrazio i nostri ospiti ringrazio il presidente Marsilio ringrazio il presidente Zaia ringrazio il presidente Compaccio grazie abbiamo concluso i lavori grazie